Terza cosa che ricordiamo è che il nostro lavoro, che qualche volta appunto è ingiustamente disconosciuto, è riconosciuto da 70 CNEL del mondo che ci hanno nominati Presidente dell'Associazione di tutti i CNEL. L'Italia è Presidente dell'Associazione di 70 CNEL nel mondo. Facciamo periodicamente rapporti sul mercato del lavoro, sulla disoccupazione, rapporti sull'andamento del ciclo, cioè a che punto stiamo con questo benedetto ciclo che non finisce mai. Facciamo periodicamente rapporti sulla criminalità economica, rapporti sull'immigrazione. Sono i problemi che sentono la gente, la società civile risente no i problemi della criminalità, degli immigrati, del ciclo e della disoccupazione. Questi sono tutti i lavori che il CNEL ha continuato a fare. È ingeneroso e oltretutto significa anche essere poco informati, dire che non si lavora abbastanza. Grazie. Arrivederci.